La pandemia ha messo a riscoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel mondo. Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato nel suo cammino devastante grandi disuguaglianze e discriminazioni, e le ha aumentate. La risposta alla pandemia è quindi duplice. Da un lato è indispensabile trovare la cura per un virus piccolo ma tremendo, che mette in ginocchio il mondo intero. Dall'altro dobbiamo curare un grande virus, quello dell'ingiustizia sociale, della disuguaglianza di opportunità, della marginazione e della mancanza di protezione dai più deboli. In questa doppia risposta di guarigione c'è una scelta che, secondo il Vangelo, non può mancare. L'opzione preferenziale per i poveri. E questa non è un'azione politica, è pure un'azione ideologica, un'azione di partiti. No. L'opzione preferenziale per i poveri è al centro del Vangelo. E il primo a farlo è stato Gesù. L'abbiamo sentito nel brano della lettera ai Corinzi che è stato letto all'inizio. Lui, essendo ricco, si è fatto povero per arricchirci a noi. Si è fatto uno di noi. E per questo al centro del Vangelo c'è questa ozione, al centro dell'annunzio di Gesù. Cristo stesso, che è Dio, ha spogliato se stesso, rendendosi simili agli uomini. E non ha scelto una vita di privilegio, ma ha scelto la condizione del servo. Anientò se stesso, facendosi servo. È nato in una famiglia umile e ha lavorato come artigiano. All'inizio della sua predicazione ha annunciato che il Regno di Dio, i poveri sono beati. Stava in mezzo ai malati, ai poveri, agli esclusi, mostrando loro l'amore misericordioso Dio. E tante volte è stato giudicato come un uomo impuro, perché andava dai malati, dai lebrosi. E questi fanno impura la gente, secondo la mentalità della legge dell'epoca. E lui ha rischiato per essere vicino ai poveri. Per questo i seguaci di Gesù si riconoscono dalla loro vicinanza ai poveri, ai piccoli, ai malati e ai carcerati, agli esclusi, ai dimenticati e a chi è privo del cibo e dei vestiti. Possiamo leggere quel famoso protocollo sul quale saremmo giudicati tutti. Il Matteo venticinquessimo Questo è un criterio chiave di autenticità cristiana. Alcuni pensano, erroneamente, che questo amore preferenziale per i poveri sia un compito per pochi. Ma in realtà è la missione di tutta la Chiesa, diceva San Giovanni Paolo II. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri. La fede, la speranza e l'amore necessariamente ci spingono verso questa preferenza per i più bisognosi, che va oltre la pur necessaria assistenza. Implica, infatti, il camminare assieme, il lasciarci evangelizzare da loro, che conoscono bene Cristo sofferente, il lasciarci contagiare dalla loro esperienza della salvezza, della loro saggezza e della loro creatività. Condividere con i poveri significa arricchirci a vicenda. E se ci sono strutture sociali malate che impediscono loro di sognare per il futuro, dobbiamo lavorare insieme per guarirle, per cambiarle. E a questo conduce l'amore di Cristo, che ci ha amato fino all'estremo e arriva fino ai confini, ai margini, alle frontiere esistenziali. Portare le periferie al centro significa centrare la nostra vita in Cristo, che si è fatto povero per noi, per arricchirci per mezzo della sua povertà, abbiamo ascoltato. Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori. Per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un'occasione per costruire qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere un'economia di sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. Con questo non condanno, io non voglio condannare l'assistenzialismo. Le opere assistenziali sono importanti. Pensiamo nel volontariato, che è una delle strutture più belle che ha la Chiesa italiana. Questo si fa all'assistenzialismo. Ma dobbiamo andare oltre a risolvere i problemi che ci spingono noi a fare assistenzialismo. Un'economia che non ricorra a rimedi che in realtà avvelenano la società, come i rendimenti dissociati dalla creazione di posti di lavoro dignitosi. Questo tipo di profitti è dissociato dall'economia reale, quella che dovrebbe dare beneficio alla gente comune, e inoltre risulta a volte indifferente ai danni inflitti alla casa comune. L'opzione preferenziale per i poveri, questa esigenza etico-sociale che proviene dall'amore di Dio, ci dà l'impulso a pensare e disegnare un'economia dove le persone e soprattutto i più poveri siano al centro. E ci incoraggia anche a progettare la cura del virus privilegiando coloro che ne hanno più bisogno. Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione non sia universale e per tutti. E che scandalo sarebbe se tutta l'assistenza economica che stiamo osservando, la maggior parte con denaro pubblico, si concentrasse a riscatare industrie che non contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune o alla cura del creato. Sono dei criteri per scegliere quali saranno le industrie a aiutare, quelle che contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune e alla cura del creato. Quattro criteri. Se il virus dovesse nuovamente intensificarsi in un mondo ingiusto per i poveri e più vulnerabili, dobbiamo cambiare questo mondo. Con l'esempio di Gesù, il medico dell'amore divino integrale, cioè della guarigione fisica, sociale e spirituale, come era la guarigione che faceva Gesù, dobbiamo agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dell'amore di Dio, ponendo le periferie al centro e gli ultimi al primo posto. Non dimenticare quel protocollo sul quale saremmo giudicati. Matteo venticinquesimo. Mettiamolo in pratica, in questa ripressa dalle epidemie. E a partire da questo amore concreto, come dice il Vangelo lì, ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Dal contrario, usciremo peggio dalla crisi. Che il Signore ci aiuti, ci dia la forza per uscire migliori, rispondendo alle necessità del mondo di oggi. Grazie.